Un tiro, un gol, 4 minuti di gioco, Catanzaro avanti E' scivolato Altobelli Ha messo le slick sul campo Reign, che in realtà bagnato non è, è finito a terra Gli è bello, ha letteralmente passeggiato per entrare in area di rigore Ha guardato Barosi, con un rigore in movimento, da distanza ravvicinata, lo ha fulminato sul palo lungo Dopo 4 minuti si è già sbloccato il match, la capolista ha messo la testa avanti Con la rete stagionale, numero 20 di Gli è bello Superato